Ben trovati alle parole della domenica in questa quarta domenica di avvento. Siamo davvero alle porte del Santo Natale 2023 e la liturgia in questa quarta domenica ci consente di fare un ulteriore passo verso il mistero che nel giorno del Santo Natale andremo a contemplare in quel Dio fatto bambino. Cominciamo subito da quella che è la lettura scelta per il Vangelo di questa domenica. Una lettura che è molto conosciuta perché è la parte del Vangelo secondo Luca che riguarda l'annuncio della salvezza che si compie nel bambino di Betlemme. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Che cosa è questo? Beh, questo è l'esordio di una storia sconvolgente. Vi è un intervento diretto all'interno di una storia precisa. In realtà, se noi leggessimo dall'inizio il Vangelo secondo Luca, sapremmo che questo evento è posto dentro una storia che lo precede, ovvero l'annuncio della nascita del Battista e la gravidanza di Elisabetta. Ecco quindi che dentro una storia che già si predispone a contenere la salvezza, si pone questo annuncio, quindi a conferma di quanto già sta accadendo. Ecco quindi questo intervento preciso, storico, puntuale che accade in un momento umano dove vi è una donna, Maria, promessa sposa di un uomo della casa di Davide. Questo elemento, cioè la stirpe davidica, sarà un elemento essenziale, soprattutto per la teologia lucana, per vedere nel Gesù di Betlemme colui che incarna la discendenza promessa al re Davide, colui che avrebbe stabilito come successore per sempre sul suo regno. Allora, questo elemento storico è quanto di più sconvolgente noi possiamo leggere dentro un testo sacro, perché? Perché è come se noi dicessimo che il Dio eterno, che non ha tempo, che non ha confini, che è inaccessibile, che è più di tutto ciò che la mente umana possa concepire, decide di assumere una caratteristica precisa, lo spazio, il tempo, la creaturalità. A quelle parole ella fu molto turbata. A quali parole questa Vergine si turba? A delle parole che suonano come rallegrati piena di grazia. Potremmo chiederci come mai questo turbamento, ma perché queste parole agli orecchi di Maria, che conosceva bene le scritture, suonano come l'adempimento di una profezia grandissima. Rallegrati Gerusalemme perché è arrivato il momento del tuo Signore. Certamente Maria, giovane, non si rende assolutamente conto fino in fondo della portata di quello che le viene detto. Un'altra cosa che ci potrebbe stupire veramente è il fatto che questo annuncio sconvolgente che racchiude l'infinito di Dio nella finitezza di un tempo, di un qui e di un'ora, accada in una città della Galilea chiamata Nazareth. Ora, se noi fossimo pratici della terra di Gesù, noi sapremmo che Nazareth è un paese che si trova nella Galilea, cioè nella parte del nord, ed è sostanzialmente, lo era sicuramente ai tempi di Gesù, ma oggi lo è un po' meno, ma è visibile a tutti noi, è piuttosto sperduto. Cioè è lontano dai centri di potere, dai centri di potere del lago, dai centri di potere del mare, dai centri di potere della vita politica e spirituale, ovvero la Giudea con Gerusalemme. Quindi questo annuncio così sconvolgente ha le vesti di un annuncio quotidiano, di un annuncio umile, di un annuncio che se rischiamo di, come dire, perderci dietro altri atteggiamenti distrattivi, quindi non lo cogliamo, non ne cogliamo la portata. Questo era il grande rischio che, per fortuna, Maria non corre. Perché? Perché il suo orecchio è attento a un suono particolare, al suono di una profezia che si compie. Ecco il finale della storia. Maria disse, ecco la serva del Signore. Perché ciò che l'angelo gli ha detto è un programma, è qualche cosa di cui viene dato un segno certo non richiesto, cioè la gravidanza di Elisabetta. Allora questa donna, Maria, promessa sposa di Giuseppe, di un paese sperduto della Galilea, nel suo totale anonimato, riceve qualche cosa che è incommensurabile rispetto al tempo. Ed è importante ricordarci questo divario tra l'immensità di Dio e la concretezza dell'essere umano anche quando leggiamo quella che è stata posta come seconda lettura, che è un brano, uno stralcio, pochi versetti, della lettera di Paolo ai Romani, fatica diretta dell'Apostolo per questa comunità che lui non conosce ma presso la quale cerca di accreditarsi. Scrive così, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, cioè nel mio annuncio di ciò che io vi ho appena scritto all'interno di questa lettera, che annuncia Gesù Cristo secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti per ordine dell'eterno Dio annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede. Che cosa sta scrivendo Paolo? Che è giudeo e che conosce perfettamente le scritture e le promesse che Dio aveva fatto, cioè che avrebbe mandato un salvatore. Ebbene quel salvatore è quel Cristo Gesù che lui, Paolo, ha annunciato a tutte le sue comunità e che ha presentato anche ai cristiani della comunità di Roma. E che lui, Paolo, affida a colui che nel suo mistero e quindi nella sua volontà insondabile per l'essere umano ha il potere di svelare, di rivelare, di compiere e anche di manifestare questo mistero agli uomini. E' questo Dio che è solo sapiente per mezzo di Gesù Cristo la gloria nei secoli. Paolo è assolutamente consapevole che l'obbedienza della fede, cioè la risposta diretta che un essere umano liberamente offre Alla proposta che Dio fa di credere nel suo figlio salvatore del mondo, bene Paolo sa perfettamente che questo è lo scopo della sua missione E che l'obbedienza della fede è qualcosa che Dio concederà a coloro che si mettono in ascolto del suo Vangelo. Quel Cristo Gesù ha la sua origine in quel sì di quella donna, in quel paese sperduto. Il grande mistero di Dio nascosto nei secoli eterni si compie nel Eccomi di Maria. Credo veramente che questa domenica ci possa ben introdurre nelle festività natalizie, nelle quali contempliamo questa incarnazione comprendendo come quel grande disegno di salvezza è ben prefigurato anche nella prima lettura che è accostata in questa domenica e che è tratta dal secondo libro di Samuele. I libri storici all'interno della Bibbia sono libri che rileggono la storia, diciamo, di alcuni momenti importanti di Israele per darne un senso a coloro che poi la stavano leggendo in quel momento e allora davvero direi è utile per tutti noi leggere questo testo perché al Re Davide viene data ovviamente questa profezia dice Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri Io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre Allora questa promessa che è lontana quasi mille anni rispetto poi all'adempimento dell'annuncio fatto alla Vergine Maria Questa contiene quel grande mistero di amore che ha previsto la nascita di questo discendente della casa di Davide perché una salvezza eterna, inaccessibile, misteriosa e potente potesse entrare dentro questa storia La storia concreta degli esseri umani Ecco perché questo salmo Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà Perché ho detto è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà Tutti noi possiamo alzare gli occhi e vedere sopra noi il cielo Ebbene così stabile come di fronte a noi si pone la meraviglia del cielo così è la fedeltà del Signore Davvero questa quarta domenica di avvento sia un buon ingresso nelle festività di Natale Un santo Natale a tutti voi accendendo in noi la speranza della luce nella pace che viene dalla grotta di Betlemme Buona domenica